Il rapporto tra il maltempo e il carnevale di Sciacca è ormai simbiotico, di più è entrato a far parte dell'ironia più allegorica, ma c'è poco da ridere perché oltre ad essere un elemento che contraddistingue e valorizza una tradizione oltre centenarie di questo territorio, il carnevale è anche un fatto inevitabilmente economico ed interessa tanti soggetti, dal comune ai carristi, dagli ambulanti alla società organizzatrice. Ecco perché decidere se fare slittare i giorni originariamente indicati per la manifestazione non era facile. Le previsioni del tempo sono impietose e indicano un fine settimana con la pioggia protagonista, soprattutto per la giornata di domani sabato. E allora è stato deciso di rinviare, con una spalmatura delle quattro giornate originali, primo giorno martedì 13, che peraltro essendo la vigilia delle ceneri è l'unico vero giorno di carnavale da calendario, poi pausa e infine ripresa con il filotto di tre giorni di manifestazione da venerdì 16 a domenica 18, confermata la chiusura delle scuole per disinfestazione, ma solo da lunedì 12 e mercoledì 14 febbraio. Le decisioni prese dovrebbero avere tenuto conto di una serie di aspetti, a partire da quello meteorologico, per finire con gli impegni contrattuali e con la vendita dei ticket d'ingresso. È stata una riunione lunga e difficile, quella che si è svolta per gran parte della giornata di ieri. A negoziare sono stati l'amministrazione comunale, la Futuris, società che si è giudicata l'organizzazione della manifestazione carnascialesca, naturalmente le maestranze, sul tappeto i dubbi e le perplessità in ordine a previsioni meteorologiche, tutt'altro che incoraggianti per il primo dei due fini settimana, che erano stati programmati da mesi per il carnevale edizione 2024, tornato, lo ricordiamo, nel suo periodo più o meno tradizionale, scelta che naturalmente sta scatenando un nuovo dibattito attorno ad un argomento, il carnevale di Sciacca, che è un po' la metafora stessa della litigiosità di una città che su questo tema raggiunge una vis polemica inarrivabile per altri argomenti, perfino per quelli molto più importanti, come oggi ha fatto notare l'arcivescovo Alessandro Damiano. La scelta di modificare i giorni di carnevale hanno fatto sapere dalla Futuris, scaturita da causa di forza maggiore, ed è stata assunta in anticipo di due giorni nel rispetto del pubblico non residente, dei gruppi e dei turisti che avevano programmato di venire ad assistere alla manifestazione durante il primo weekend in modo che si possano eventualmente riorganizzare. Decisione presa anche nel rispetto di tutte le maestranze attualmente al lavoro nelle fasi di allestimento dei carri allegorici, ma anche nel rispetto di tutte le aziende del territorio che erano state coinvolte. Tutti i ticket d'ingresso giornalieri già acquistati per sabato 10 e per domenica 11 febbraio saranno automaticamente validi rispettivamente per martedì 13 e venerdì 16 febbraio. Qualora si fosse impossibilitati a partecipare durante le nuove date sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 12 febbraio direttamente presso il punto vendita dove si è effettuato l'acquisto oppure per chi avesse acquistato il biglietto online sulla piattaforma ticket sms.it. Tutti gli abbonamenti acquistati per i quattro corsi mascherati saranno ugualmente validi per le nuove date. Si ricorda che sarà possibile acquistare gli abbonamenti solo fino alle ore 18 di lunedì 12 febbraio 2024. Grazie.